Ok, ho una brutta notizia. Stai morendo? No, non così brutta. Sto morendo io? No, sono arrivati i miei a Londra e verranno a trovarmi. Oddio, genitori. Genitori americani? Quando? Adesso. Sì, me l'avevano detto e io non te l'ho detto. Di solito non vengono e invece vengono. Adesso, adesso? Adesso, adesso, adesso. È meglio se ti metti i pantaloni. Oddio. Ok, ok. Mi dispiace, mi dispiace. Sanno che io esisto? Sì, ho accennato a qualcosa, ma non sono andata nello specifico. Sì, sono molto conservatori, perciò non quei pantaloni. Ok, sì. Oddio, ok. Puoi prendere tempo. Prendi tempo. Salita pure. Che cosa?